Forse non hai giusti che allontano un attimo perché... Eh no, infatti da qua lo vedo. Alessandro Christofoletti si prende un po' in giro? A dire la verità, sì e no, perché questo è uno scatto che ho realizzato fotografando il volto di un mio amico dopo aver appannato l'obiettivo della macchina e aver fatto vari tentativi per arrivare a questo effetto e questo effetto dimostra un po' l'impossibilità dell'uomo di riconoscersi guardandosi allo specchio io ho usato la macchina come se fosse uno specchio l'uomo contemporaneo fa fatica a riconoscersi, a trovare la propria identità impossibilitato dalla nebbia, dall'inquinamento, dalla nebbia interiore, dall'inquinamento esteriore che contraddistingue la società dei nostri giorni e questo scatto ha significato per me il raggiungimento di questa cansepolnezza e penso di essere riuscito a rendere l'idea di queste impossibilità che si traduce nella difficoltà di riuscire a scorgere lineamenti da vicino più ci si allontana, più si riesce a capire i contorni del viso infatti in questo momento siamo a un metro e mezzo circa dalla tela e si vedono i contorni da dov'è che si vedono molto più nitidamente? grazie a tutti